Il Presidente, Loria Lomillo e tutta la società, prendia per un'attacco di consenso, da fronte alla faccia di Domenico Imani, di una madre e di una prima, il mio amico, Luca Mandiani! Con la sua 100% giornale e corrispondente. Luca e signora il concetto di corrispondente. Grazie a tutti. Grazie.